amici tecnologici benvenuti in noi questo video diciamo è fatto un prodotto che un cliente ci ha ordinato che una barra per utilizzo su acquario filia è appunto una plafoniera composta da un modulo da applicare in aggiunta a un impianto già esistente del nostro cliente colore luce bianco freddo alimentazione 12 volt andiamo ora a dare alimentazione al modulo e come dimensioni 50 centimetri vi ricordo che possiamo andarli a realizzare di qualsiasi dimensione ok questo è il modulo acceso con 8 volte andiamo a regolare il nostro alimentatore da laboratorio andiamo a aumentare ora in nove volte andiamo a salire a 12 volt 9 10 volt 11 volt e infine abbiamo 12 volt come puoi vedere la potenza è eccezionale a un flusso luminoso di circa 1500 lumen colore luce 6500 k funzionante a bassissima tensione perché ovviamente come tutti i prodotti per acquario filia funziona una bassa tensione appunto per un fattore diciamo di sicurezza per quanto riguarda l'isolamento e il 65 corpo in alluminio con cover plastica per informazioni ed ordini e contattaci sotto lasciamo il link del sito alla sezione del nostro web store e le mail grazie e ciao a dimenticavo per quanto riguarda i colorazioni della luce possiamo realizzare plafoniere con luce di diversi gradi kelvin anche mischiati da 2007 fino a 12 15 20 mila kelvin che sono per gli acquari marini ciao grazie